L'Inter Torino, il grande Torino, poco prima che morissero per andare nel Superbio, nel 1949. E poi ho visto il Secondo Anello. Il Secondo Anello l'avevano inaugurato con l'Ungheria. L'Italia-Ungheria abbiamo perso 3 a 0. Fate voi. Quindi sarebbe stato meglio ristrutturare San Siro? Però non me ne intendo di queste cose. No, no, se hanno detto così, però io lo ristrutturerei. Grazie.